non è la prima volta che parlo della morte e commentando la settimana appena trascorsa non c'è dubbio che si può parlare della morte di due grandi personaggi per ragioni completamente diverse un uomo di chiesa un papa emerito benedetto sedicesimo papa ratzinger il papa tedesco il teologo diventato papa un uomo che nella chiesa ha portato grande innovazione ma che molto spesso è passato nell'opinione comune come un restauratore un papa che forse non era simpatico all'apparenza come giovanni paolo secondo oppure come papa francesco ma un papa che certamente ha segnato anche il destino della della chiesa per alcune scelte che ha fatto che non stava tutti simpatico ma che sicuramente era un papa che aveva scritto pagine importantissime di storia un grandissimo intellettuale e poi la morte di un campione un discutibile un campione veramente non solo dentro il campo ma anche fuori gialluca vialli un uomo che amava la vita e che ha lottato fino all'ultimo attimo contro un mare incurabile un tumore al pancreas che l'ha completamente prima lacerato e poi ucciso eppure nonostante questo rileggendo alcune delle sue interviste veniva fuori il suo grande amore per l'italia la sua grande passione per il calcio l'amore per la sua famiglia l'idea che la cosa più bella l'obiettivo che valera raggiungere era quella di voler vedere le figlie sistemate e invece non c'è riuscito dall'altro canto un papa che morendo ci ha fatto riflettere sulla sua grandezza tutti oggi dicono che bisogna farlo santo subito ma forse in pochi davvero ci credevano al fatto che lui ha veramente segnato un momento di storia che tutti pensavano fosse un momento di transizione invece è stato un momento in cui sono accadute cose molto importanti per la chiesa ribadisco forse andando un po controcorrente ma ribadisco che si è trattato di un papa davvero grande innovatore allo stesso modo vialli sia da allenatore che da calciatore ma che anche da persona che stava soffrendo per questo male terribile ci ha dato delle lezioni di vita bellissime ci ha fatto capire veramente quanto è importante vivere e cercare di vivere rispettando gli altri cercando di essere capaci di donarsi e di donare allo stesso modo di papa benedetto sedicesimo certamente adesso ci saranno polemiche già ci sono state continueranno ad esserci e come al solito perderemo di vista quello che ci hanno lasciato di più importante che è quello che ho provato a dirvi rispetto a tutto quello che è assolutamente inutile e ininfluente ma questo fa parte del nostro essere umani